sul sul simmers e non bentornati nel mio canale sono valuccia sims e siamo di nuovo qui con la nostra 100 baby challenge nello scorso episodio abbiamo assistito alla compleanno di elisanna tarner che è diventata questa splendida bimba a mi piace tanto allo sguardo un po' incavolato però mi piace e questi sono i suoi abiti quotidiani gli abiti formali la ginnastica da notte da festa e infine il costume ho cambiato con l'occasione anche gli abiti ve li mostro eccola qui alla nostra charlotte che ha una bella pancia quindi ci rivediamo tra poco in game ragazzi allora eccoci di nuovo qua siamo tornati in game e lei ovviamente sta per svenire perché poveraccia è cotta io avrei voluto fare chiama la famiglia a tavola ma non chiamiamo un pezzo di ciufo se cina così forza siamo a tavola su ma non potevi svenire sul letto io non ho mai capito sta cosa vabbè dai che tra poco pure la piccoletta piangerà avanti ah vi faccio notare che appena sono entrata in game è confarso questo è il compleanno di beatrix il tempo vola vero quindi dobbiamo aspettare che cresca no c'è la festa scatenata guarda non siamo proprio in vena forza che tutti prendano una porzione ah dovevo dovevo migliorare il tavolo cioè modificare il tavolo ragazzi vabbè no vi faccio notare che ho ingrandito e non ho messo l'ho messa la luce si l'ho messa giusto si c'è ho ingrandito la stanza delle bambine qua ho aggiunto una casetta diciamo delle bambole chiamiamola così è un una postazione per disegnare qua fuori quella scientifica sì cerchiamo di dargli pure un po' di intrattenimento a sti bambini sta chiedendo se mi c'è bisogno no non mi piacerebbe grazie e quindi sì un minimo comunque l'ho arredata questa stanza inoltre nello scorso episodio ci siamo salutati con il compleanno della crescita sì di elisanna ma dovevo far mostrarvi vi devo mostrare no molla il piatto molla il piatto molla il piatto cara non c'è bisogno usa e vai a farti una doccia dicevo non vi ho mostrato la sua aspirazione il suo tratto che sono stati come al solito vabbè poi lo faremo ecco vabbè scoppio ritardato selezionati tramite il generatore casuale allora lei deve lei è uscito comunque estroversa e in quanto a tratti mi è uscito smanettuna quindi chi lo sa chi lo sa cosa cosa farà dunque dai prenditi un altro pezzo di torta ma tu stai mangiando la torta no come ho potuto farti mangiare la torta che ora mi va in crisi mistica usa il vasino cioè già sta sbroccando ragazzi io non lo so qui c'è una un'esigenza di bagni e lei è andata giù a picco ovviamente perché cosa potevamo aspettarci di diverso qualcosa forse no siamo con 1734 simoleon dov'è col col è andata a dormire povera stella l'ha distrutto quindi sì ehi sanna e viva sei cresciuta che bello che bello quindi puoi andare in camera di tuo fratello magari almeno qualcuno che sfrutta la scrivania c'è io spero dopo che hai finito di mangiare vai qua e fai i compiti tu come sta andando fra quanto cresci tu la sharon cresce fra quattro giorni c'è ancora tempo ragazzi anche perché come siamo messi qua la comunicazione stiamo a posto l'immaginazione stiamo a posto il pensiero con il movimento ci siamo perché siamo al cento per cento non so perché non abbia vabbè fondamentalmente siamo a corto con il pensiero e con il vasino ma ce la possiamo fare abbiamo quattro giorni hai voglia direi che dopo questo te ne vai subito a dormire perché è proprio il caso no ma non devi lavare i piatti tesoro non devi lavare i piatti vabbè lo apprezzo molto grazie mille il bagno è finalmente libero vai usa pulisci per favore dopo di che pulisci anche sta roba mostruosa alla vi ricordo che la nostra charlotte 20 giorni al passaggio d'età ma è incinta quindi l'età è bloccata al momento qua ragazzi la vedo dura proprio perché dovrebbe ci ho provato siamo sedi a 175 perché tipo akira ci ha dato 25 simoleon ma niente e quindi ragazzi penso che questa non la raggiungeremo però intanto una l'abbiamo fatta quindi meglio di niente allora ma non hai pulito ti avevo chiesto di pulirlo non l'hai pulito forza e se è molto a disagio è normale che tu sia molto a disagio è la vita che ti rende molto a disagio con il tipo di vita che fai ce la fai a prenderne un altro pezzo giusto per a proposito no vabbè non lo vuole pulire ragazzi è inutile allora fra quanto ci siamo andate già a picco evviva terzo timesso tra 20 ore quindi io vorrei assistere al parto ce la faremo chi lo sa non sappiamo nemmeno se charlotte riuscirà ad arrivare viva a letto in questo momento quindi non facciamo troppi progetti intanto guardatela 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 la patatina come fa i compiti e adesso diciamo che piano piano iniziamo ad avere un po di respiro perché più i bambini crescono io non vedo l'ora che col diventi adolescente sinceramente cioè o meglio che ottenga come stiamo messi con la scuola e devi sviluppare un'abilità non terrai mai un ciufo quindi disegna due immagini durante lo stato no questa non gliela farò ragazzi sviluppare perché troppi figli troppo tempo non posso quindi a quale abilità siamo a tre quella sociale quella sociale quindi c'è il caso proprio di sviluppare questa abilità e nel frattempo però di svegliarsi per fare i compiti perché mi dispiace tanto ma indovinali devi fare compiti questo lo mettiamo un secondo qua tu nel frattempo fai i compiti io elimino questo piatto perfetto olè qualcos'altro tu non hai mangiato nel frattempo niente cambia il pannolino sporco io non vedo l'ora che cresca ragazzi perché veramente è un continuo Elisanna ha finito i compiti quindi direi che una volta terminati i compiti possiamo dai ancora presto poi per qua ci servono questo è il livello 2 di un'abilità no per il momento allora te ne vai a letto sì direi che è il caso tuo fratello è venuto a fare i compiti qua vabbè dai avevi occupato la scrivania perdoniamolo tu sei vicina alla morte come anche le tue piante quindi direi che è il caso di darsi da fare cara cara charlotte vabbè direi che una volta fatto questo ti metti a dormire perché se no non ce la puoi fare fra quanto mi va in crisi mistica eccola lì no mettiamola a dormire perché direi che è proprio il caso nel frattempo visto che per il momento la porta l'avevo bloccata blocca la porta se la porta è bloccata ragazzi perché se no veramente è un continuo di gente che va e viene neanche fosse un porto di mare allora dunque qua call io aspetto con ansia che tu finisci i compiti ha finito i compiti di oggi è il caso comunque di tenere sempre in considerazione il fatto che bisogna anche sviluppare ragazzi ricordiamoci per quando saranno adolescenti uno di questi valori caratteriali ecco non mi veniva ce l'ha scritto sopra perché comunque quando saranno adolescenti dovranno avere il 10 e anche uno di quelli con la stellina quindi è proprio necessario che sviluppino tesoro tu non avevi preso la torta quindi vieni qua prendi un pezzo quando hai finito di fare i compiti dai su su te la sei meritata la torta dai dai che sei bravissimo e poi vai a letto certo andare a letto a luna di notte dopo aver mangiato una fetta di torta non è il massimo però qua ragazzi la vita va così se dovessimo fare tutte le cose precise non usciremmo vivi da questa sfida quindi direi che Cole mangia qualcosa poi va a letto questa ragazza è la torta infinita no lui l'aveva mangiata in realtà la torta perché l'ho pulito il piatto che ci penso però vabbè non entriamo proprio nei dettagli finisci di mangiare per amore della pace e vai di questo me ne occupo io tua madre se si riprende un minimo ecco la mandiamo a scofonarsi come si dice qua da noi un pezzo di torta mangia mangia vai vai sei incinta te lo puoi permettere io non so come ne uscirà Charlotte una volta che avrà finito cioè che sarà arrivata la vecchiaia a livello fisico proprio perché con tutti questi figli ragazzi ho paura vi dico la verità però ora ce la fai a pulire dovresti anche innaffiare io so che ti chiedo tanto perché tu sei al terzo trimestre ormai credo fa vedere no ci devi ancora entrare dai sfruttiamo queste 13 ore vieni qua ti supplico e innaffia non farle morire perché al momento visto che non penso se lo so lo so ti ho fatto a malapena lavare le mani però tu devi resistermi tesoro e non ce la fai velocizziamo il più possibile nel frattempo fatemi tenere d'occhio qua bambinetta perché lei un'altra fetta di torta non è proprio il caso di fargliela mangiare quindi direi che eliminiamo questi piatti lasciamo questa fetta per Charlotte abbiamo qualcosa di pronto dovremmo avere il mondo qua dentro ha variato fra un giorno ha variato fra un giorno diamole qualcosa di sostanzioso vai vieni qua prendi una porzione come va? forza puoi farcela? io so che puoi poi raccoglieremo tutto in un altro momento ma per ora so che puoi anzi oddio veramente sarebbe il caso di raccogliere tuttora perché col terzo timestre in arrivo non è che non riuscirai a raccogliere niente di più allora 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 pure tu prendi una porzione quante ne sono rimaste tanto? una perfetto e mettiti un po' qui a parlare con la sorellina ralleghiamola ragazzi sono carinissime veramente adorabili oddio c'hai gli occhi un po' bizzarri in questa foto però troppo troppo carine troppo troppo carine allora dunque ragazzi valore di abilità sociale tu hai ancora bisogno di dormire per un po' tu ti supplico raccogli tutto lo so ti chiedo molto ma ti prego raccogli tutto perché qua ne abbiamo bisogno come il pane eccola lì ragazzi fine dei giochi lui va a scuola fra un'ora direi che è il caso che si alza e che si sbriga a usare il bagno e farsi una doccia patata resisti un minuto che la mamma poi non ce la fa più dai finisci di raccogliere questo e poi basta tua figlia ha bisogno di te nutriamola vai Charlotte basta ho detto lei ha raggiunto tanto il livello 4 di comunicazione nel parare con la sorellona va bene va bene tu tuo fratello si arrabbia se usi il vasino tante volte o mi auguro di no perché ne abbiamo estrema necessità ti prego guarda poi cullala subito perché tu devi mangiare qualcosa se non mi schiatti proprio prendi un pezzo ci puoi andare in bagno quindi quando c'è io penso di sì perché dai sono fratelli qua gioca con le bambole quindi dopo ci giochi devi sviluppare l'immaginazione per caso si quindi puoi giocare tutto il tempo che vuoi patata dopo vai gioca con le bambole dai un nome alle bambole facciamo le patine del bosco e speriamo che questa casetta duri e che non arrivi qualcuno Charlotte eccoci qua lavoriamo da casa cosa dobbiamo fare? sto lavorando da casa racconta per i suoi politici la regra la giornata di un sim nei quartieri alti la vedo molto dura la vedo molto dura e dobbiamo ancora raccogliere vabbè non scendono però quindi questo è il vantaggio tu come stavi messa tesoro il bagno era occupato eh lo so qua con 800 figli prima o poi il bagno dovremmo farlo un altro bagno ragazzi è proprio necessario nel frattempo continuiamo ad alzare i nostri fondi così allora direi che lo so che è il primo giorno ma studi subito sodo e tu non hai mangiato nulla però dai mangi a scuola quindi per favore studia sodo anche tu nel frattempo tu cosa avevi raccolto a parte che ora dovrò raccoglierti dal pavimento allora vabbè 50 simoleon 120 simoleon 250 simoleon no no non perdere tempo a lavare piatti dormi sai che tra poco puzzerai veramente come una schifosa quindi direi che è il caso di dormire non è vero non è vero perché dico queste stupidaggini pure io perché ragazzi questa bambina deve sbrigarsi a crescere perché io non ce la faccio veramente più cioè è un continuo ragazzi è un lamento continuo per carità è una bambina lo capisco però ecco quella sviene tu patata come va qua ti piace questo gioco scusate ti piace questo gioco che ti ha comprato o meglio che ti ha comprato la mamma ti piace questo gioco bello questo gioco vero non sembri molto convinta in realtà però è un bel gioco dai perché no si fa sviluppare anche l'abilità tra poco anche tu dovrai crollare tua madre è già crollata guarda che bella scena veramente ragazzi non penso riusciremo ad assistere al parto ma io non vedo l'ora che partorisca soprattutto compito incompiuto quando l'isanna arriva in aula si ricorda che oggi aveva un lavoro da consegnare uno per cui avrebbe dovuto iniziare a studiare settimane fa ma è appena cresciuta vabbè poi nota la pila di fogli che sta crescendo sulla cattedra dell'insegnante tutto quel che le serve è uno di essi per pochi minuti deve cercare di copiare il lavoro di un compagno o confessare la verità confessa la verità ragazzi sono sempre a favore della verità l'insegnante le risanna la loda per la sua onestà e le dà una proroga speciale deve fare molte cose in poco tempo ma almeno a seconda occasione perfetto non sarà il massimo però se tu recuperi poca poca energia volontariato musicale mentre Cole è seduto insieme alla classe durante un'assemblea l'insegnante di musica chiede un volontario anche se l'insegnante sta guardando proprio lui Cole si accorge che il bambino accanto è impaziente di salire sul palco Cole deve approfittare dell'occasione o mandare l'altro bambino dai stavolta approfittiamo dell'occasione non mi ricordo di quale sfida abbiamo fatto l'altro per Cole è un'occasione per sfoggiare i propri talenti così si avvicina alla cattedra e l'insegnante gli dà dei cembali bam ecco un'esebizione della quale nessuno si dimenticherà mai almeno per un bel po' aumento del rendimento piccolo che male non fa in questa sfida ragazzi quindi noi ci accontentiamo veramente di tutto e a proposito di tutto no sei troppo a disagio sei troppo troppo a disagio dormi allora niente speravo raccogliessi qualcosa ma sei veramente troppo troppo a disagio tu direi che pure tu vai a dormire a questo punto ragazzi riprendo la registrazione quando o i bambini tornano a casa o qualcuno di loro si riprende vita diciamo a dopo allora siamo di ritorno lei è cioè devastata praticamente ragazzi io non so se ne usciremo vivi stavolta perché la vedo veramente messa male stavo con la speranza di finire di raccogliere questa roba ma la vedo veramente solo una speranza perché comunque ci servirebbero dei soldi dovremmo anche fare gli obiettivi del lavoro non so come era regale la giornata di un sim nei quartieri alti cioè dobbiamo trovare qualcuno che ce la rallegra a noi la giornata perché veramente è un delirio qua ma proprio che ci rallegri la vita perché questa poveraccia si meno male le occupera un po' di divertimento così con le pulizie che ti devo dire devi pulire qualcos'altro magari c'è qualcos'altro da pulire banconi no quindi riprenditi un attimo perché direi che è veramente necessario fortuna che qualche soldino ragazzi lo guadagniamo così sembra una stupidaggine però in realtà poi soldi che c'è adesso che è successo si dai abbraccia l'orso parla con lui dopo di che gioca con la casa delle fattine del bosco notiamo che lei un minimo è giocosa beata lei perché qua nel vederla così a me tutto mi prende tranne che l'essere giocose serviamo il pranzo perché qua bisogna iniziare a preparare altro direi di preparare del minestrone così facciamo proprio felici i bambini guarda proprio felici felici la felicità ragazzi anche le verdure servono perciò non prepariamo un bel niente non è vero perché cambiamo il pannolino a rompina Beatrix detta rompina veramente ragazzi non la reggo più quindi si sbrigasse a crescere perché veramente io non ce la posso fare nel frattempo stringiamo delle amicizie anche con lei e direi che visto che il fratello ha il club poi sfratteremo qualcuno dal club e inseriremo anzi no io vorrei in realtà che ognuno di loro avesse un club proprio perché vorrei che si sono fratelli si vogliono bene però vorrei che avessero una propria cerca di amici la trovo una cosa anche giusta quindi ha incontrato Malcolm a scuola ecco fate delle amicizie ragazzi vi fa bene visto che non vivete una vita già tanto facile di per sé stringete delle amicizie ecco lo stalker che ci si piazza in casa io me lo sento non serve che liberi spazio vabbè vabbè ragazzi oh non possiamo pretendere quale incontro Davide a scuola ok va bene perfetto non possiamo pretendere di avere subito dei risultati perché sarebbe veramente impossibile tu vuoi giocare si gioca fai una cosa aspetta un secondo vuoi partecipare lei sta già giocando partecipa tu invece patato come va tu sei distrutto cosa volevi fare volevi guardare le tecultura mondiale quindi guarda un canale però prima vai fai una cosa prendi una porzione di minestrone prendi una porzione certo il minestrone alle tre e mezza non ha proprio una mano santa allora e guarda rete cultura mondiale com'è sto minestrone buono a questo punto potresti guardare la tv insieme a tuo figlio non sarebbe proprio una cattivissima idea ma tu stai già più di là che di qua no ragazzi cioè veramente è un delirio con questa qua è un continuo ma quando cresci ti prego cresci io non ti sopporto più il bello è che ho già selezionato il tratto per lei secondo me non è il tratto giusto cioè non c'è zecca proprio niente dovrebbe uscire il tratto demone probabilmente non c'è peccato perché era proprio il tratto che faceva per lei fermi tutti dove stai andando usa il vasino qua che c'è che devi fare tu no 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 niente pasticci guarda ti ringrazio lo apprezzo molto gioca con l'animale vuoi giocare oddio ragazzi ho fatto il delirio aspettate un attimo ok vai a giocare con l'animale di peluche gioca fatti una sessione di gioco con lui così ti passa cioè noi dovremmo veramente fare delle interazioni per il lavoro perché se non facciamo neanche una facciamo veramente schifo almeno raccontare una barzelletta sui politici ragazzi almeno quello calcolando che mi sviene tra due ore forse ce la può fare quindi direi di salutare questa che secondo me ha estremo bisogno di una barzelletta dai presentazione allegra partiamo già no hai deciso di no che è ti sta sulle balle ah c'è questa Sara Pellegrini presentazione allegra ti prego devi raccontare una barzelletta non dobbiamo chiedere di vivere con noi oh può mettersi in congiato parentale male non ci farebbe in realtà possiamo raccontare fare una barzelletta sui politici vi prego su Sunset Valley per ora notare il pancione di Charlotte ragazzi cresce a vista d'occhio io non so dove finiremo forse imploderà non lo so esploderà imploderà tutto insieme ma è incinta anche lei? no non amichevole mi sono sbagliata scusa buffo oh ancora una barzelletta su Sunset Valley che deve aver fatto anche schifo tra parentesi perché questa se ne sta andando a questo punto so che è pazzia ma io ci proverei perché tanto qua la follia dilaga raccoglie una donazione e proviamo con 100 simoleo ragazzi dobbiamo ottenerne 500 siamo a 175 sta entrando in casa nostra fatemi capire non avremo oh Beatrix è passata di età allora ragazzi avevo già scelto cioè io ho scelto no casualmente col generatore Beatrix ora fatemi trovare è uscito accattivante questi bebè dovranno socializzare acquisiscono la via di comunicazione più velocemente non hanno paura degli estranei possono condividere l'affetto con altri sì finalmente finalmente ragazzi ed è la prima castana bimba castana che c'è che carina no tu devi proprio andare no ti prego non farmi questo non farmi questo non te ne andare dove sei mi serve che tu vabbè che fai questa è morta praticamente puoi chiamarla da te quando ti svegli se c'è questa possibilità nel frattempo ragazzi vorrei sistemare il look alla piccola Beatrix vendere la culla insomma posizionare il suo lettino nella camera e poi torno in game allora ragazzi eccoci di nuovo qua lei è la nostra Beatrix Turner nei suoi abiti quotidiani per me è carinissima e poi è l'unica che ha i capelli castani nei suoi abiti formali da notte e da festa ok ragazzi lei è distrutta ma dire distrutta è un efeimismo perché veramente non ce la fa più allora mi sono dimenticata solo una cosa perché ho fatto tutto il resto mi sono dimenticata di vendere questa allora in compenso ho aggiunto qua delle sedie perché adesso comunque iniziano poi dovrò comunque modificare ho aggiunto il lettino e ho spostato un po' qua per tenerlo in casa perché sì teniamolo in casa non mi va che vadano fuori vabbè io voglio farti mangiare tu non mangi però sono due tre volte già che ti dico di prendere una porzione e stai ancora qua pallata proprio tu qua che dobbiamo fare vediamo un po' no il vasino non c'è bisogno dobbiamo fare tutto quindi direi di iniziare da quello più rognoso ovvero le abilità di pensiero perlomeno per me dopo il vasino per carità il vasino non lo batte nessuno ma è abbastanza rognosa come cosa vabbè tu dai fai sta cortesia allora a questo punto asciuga e se puoi per favore pulisci perché qua aumentiamo l'educazione di questa bambina delisanna forza elisanna sei tutti noi poi direi che anche tu vai in bagno ti fai una doccia e fai i compiti ok così la pia di pensiero ovvio che sia così oppure con le abilità per ora stai bene devi solo fare i compiti quindi chi invece deve sviluppare le abilità ma passa tutto il tempo a dormire è tuo fratello che ora invece si alza perché lo so mi dispiace tesoro ma devi sviluppare un'abilità quindi una fase si sento poco piccicoso cerca in particolare la vicinanza del suo assistente della custodia preferito e poi che non teniamo un raduno non sarebbe il caso di no oddio ci sta chiedendo se mi no annulla questo io volevo fare il raduno e invece mannaggia ragazzi me lo son perso e vabbè dai che appena tua sorella schiotta dal bagno ti è svenuto patata povera dai poi vai a dormire volevo farti mangiare perché avevo paura che sennò facevi una triste fine ah nel frattempo tu nel frattempo fai i compiti poi pensiamo all'abilità patata vai a dormire dai lo so sì perché sei nuda bene stiamo messi bene ragazzi ogni tanto qua capitano queste follie allora i compiti puoi farli in qualunque momento ma il bagno allora faccio un discorso esortativo innanzitutto perché direi che ne hai bisogno vai quando vuoi eh non è che e poi eserciti i discorsi ok dai la tristezza è passata forza sviluppa questa abilità puoi farcela tu qua come va sì so che hai fame ma perché questa sta ancora qua ragazzi l'ho venduta oh mio dio quando si crea allora a volte non so se a voi capita mai che gioca con The Sims a me capita che me la fa vendere due o tre volte quindi per carità il guadagno c'è però assurdo questi bug ragazzi i bug di The Sims sono fantastici notare nel frattempo il pancione ma qua fra quanto si finisce parto di cifra io non penso lo vedremo in questo episodio perché abbiamo quasi raggiunto la mezz'ora di video però chi lo sa tante volte è il miracolo ragazzi Elisanna ha finito i compiti quindi ora può venire davanti alla tv e godersi il canale per bambini se l'è meritato ho fatto i compiti sì io questa cioè ragazzi ho proprio dei problemi con questo secchio qua che c'è oh Santa Peppa no allora deve assolutamente mangiare qualcosa perché se no poi si sveglia più incacchiata di prima quindi no ecco io non clicco nemmeno stiamo messi bene tre giorni due giorni no direi che ti mangi le polpette vieni qua prenditi una porzione poi deve anche usare il vasino ragazzi al solito evviva questa sta crollando in piedi ma deve mangiare qualcosa perché se no mi crepa veramente raggiunto il livello 4 perfetto col col caro hai raggiunto il livello 4 sono fiera di te visto che ci sei ti lavi e poi mi dispiace tanto dircelo ma devi finire i compiti almeno farli poi le attività extracurriculari pazienza qua che succede patata abbraccia l'orso sfogati con l'orso fammi sto piacere tu fra quanto cresci a proposito tre giorni penso quasi due quindi qua dobbiamo darci da fare manca il pensiero il vasino questa sta venendo di qua a mangiare ma io non lo so vabbè gioca a forma sin dai tu non ti farebbe male guardare un po' al canale magari parlare anche con tua figlia sai giusto per rallegra dovresti magari che ne so lodarla sul fatto che ha fatto i compiti genitorialità sprona ma che vuol dire vabbè costringi a no 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 per il momento no ragazzi non c'è nulla che possiamo fare lui si mette qua così controlla pure le sorelline bravo chi è adesso sapete proprio c'è una festa maniera vai a queste feste basta ma questa sta più di là che di qua ma quali feste per piacere non scherziamo altro che feste questa deve assolutamente andare in bagno ragazzi purtroppo non ce la facciamo cioè nemmeno raccontare una barzelletta è una cosa veramente disarmante ma non ce la fa perché quando sta in questo stato ragazzi non ce la fa davvero intanto vendiamo quello che abbiamo trovato centosimoleon e trenta quello che dovrebbe darci più soddisfazione sono le rose oh può acquisire il tratto responsabile perfetto compiti finiti direi col amore di mamma vattene a letto perché bravo bravo no no il pisolino tu proprio vai a dormire dormi qua qua direi proprio che ragazzi siamo all'inferno cioè balbetta un paio di volte lui è andato a dormire tu direi che pure tu vai a dormire patata io penso che anche tu abbia bisogno di farti una sana dormita questo lo mettiamo qua questo va a finire invece qua dentro e direi che l'unica soluzione è svegliare di nuovo lei per far insegnare a usare il vasino alla nostra adorabile adorabile la peste Beatrix basta così ti prego non fartela sotto bene è molto dolce dei modi ragazzi veramente accattivante un ciufo no forse forza guarda che se la fa sotto io ti avviso te la smolla lì io ti avviso mettila lì oh perfetto così la pira di vasino una volta che l'hai messa lì non è più un tuo problema brutto ragazzi ma è proprio così mamma ti ha dato un po' di attenzione dai sei felice di ciò che c'è svieni lo so patata mi dispiace tanto ragazzi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio mi dispiace perché avrei voluto assistere al parto di Charlotte però non so effettivamente fra quanto parto dirà e siamo già intorno alla mezz'ora di video non voglio dilungarmi troppo quindi vi ringrazio per aver seguito l'episodio se vi è piaciuto lasciatemi un commento perché rispondo a tutti mi piace leggere i vostri commenti e mettete un mi piace ovviamente inoltre iscrivetevi al canale perché sto affrontando numerosissime sfide tra cui per esempio la Legacy Challenge Classica la Disney Legacy Challenge e la Rex to Richies quindi ragazzi non esitate iscrivetevi ma non iscrivetevi soltanto al mio canale ma anche a quello dei miei amici youtubers che fanno anche il loro gameplay come ad esempio Dream Like Moon che fa gameplay con The Sims 4 e The Sims Medieval Jay Simward che fa gameplay invece con The Sims 4 Death Gamer che fa gameplay con la Playstation 4 Dragon Animo Invisibile che fa anche lui gameplay con la Playstation 4 io vi ringrazio ancora tantissimo vi auguro una buona giornata una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio nel prossimo assisteremo finalmente al parto di Charlotte quindi dovremo cercare un nuovo pretendente e un nuovo papà ma possiamo farcela ragazzi confido in noi a proposito fermi tutti luci automatiche tutte le luci ma una cosa importante che non ho fatto se no a breve inizieremo a vedere i sorci verdi concedetemi quest'ultima cosa perché davvero se no non vivremo più no dov'è 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 eccola qua ragazzi questa è la salvezza per noi dovete la metto qua non è che mi piaccia proprio vicino alla finestra però e la mettiamo anche in camera di Cole perché anche lui può finora non mai successo ringraziando il cielo ma con la fortuna che abbiamo accadrà molto presto perciò ragazzi buona giornata o buona serata ci vediamo nel prossimo episodio sul sul simmers e non buona giornata buona giornata Grazie a tutti